Anche quest'anno sta per partire, per il terzo anno consecutivo, il progetto Diversamente Uguale, un progetto che mira l'integrazione tra ragazzi normodotati e diversamente abili. Questo progetto ha come partner ufficiali l'amministrazione del Comune di Santa Anastasia e la parrocchia Santa Maria della Nuova ed è promossa dalle associazioni politicamente Onlus e Panda. Sono associazioni di volontariato e culturale. Il progetto prevede le attività che si svolgono due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, nella location del salone dell'oratorio Federica Cercello. I laboratori si terranno dalle 16.30 alle 18.30 e il martedì ci focalizzeremo sul teatro-terapia e a martedì alterni, quindi bimensili, con frequenza bimensile. E gli altri due martedì del mese saranno dedicati ad un laboratorio che abbiamo denominato Improvvisamente. Improvvisamente è un laboratorio in cui i ragazzi si troveranno di fronte a delle attività di cui ignorano la natura. Questo è per capire anche come loro reagiscono di fronte a delle stimolazioni nuove e diverse che loro non conoscono. Il giovedì invece sarà dedicato a un laboratorio musicale canoro, condotto da Francesca Di Giacomo, in cui i ragazzi prepareranno dei pezzi sulla falsa riga della trasmissione di conti in migliori anni. Il laboratorio del martedì di teatro-terapia sarà condotto dall'attrice professionista Melania Esposito. È aperto assolutamente a tutti, è un progetto a titolo gratuito. Partiamo da bambini dai sei anni in poi e non ci sono limiti di età. Vi aspettiamo. Partiamo da bambini dai sei anni in migliori anni in migliori anni in migliori anni in migliori anni.